Si chiama Kiki Esploi ed è una vera e propria moda che sta coinvolgendo i Stati Uniti d'America, ma non solo. Ed è per l'appunto un modo quello di rendere il mondo più felice e più contento. Infatti si riesce a ben sposare la giusta dose d'arte con il puro e il mero esibizionismo. Infatti il modus, chiamiamola moda in questione, chiamata Kiki Esploi, è una sorta di moda per l'appunto che sta spopolando e si concentra nello stare con i glutei di fuori, quindi con il sedere di fuori, tra paesaggi che sono veramente straordinari, paesaggi veramente incantevoli. È già nato l'account che si chiama in questo modo qua, quindi come Kiki Esploi, su Instagram, ovviamente, il social network per eccellenza di foto, quindi di immagini. E questa moda, questo movimento, chiamiamola nel modo che ritenete più opportuno, sta, ripeto, spopolando letteralmente sul web. Bene, è esplosa questa mania dunque che sono convinto darà non poche soddisfazioni a noi maschietti, a noi uomini, a noi che abbiamo, per così dire, un apparato genitale esterno e non interno. Bene, complimenti, il video termina qua, un salutone, a presto.